Si presentano a telefono come operatori di servizi di gas e luce, ma non lo sono affatto e cercano di farsi dare i dati sensibili, tra cui codici di carte di credito. È una delle truffe più note e più segnalate dai cittadini, in particolare in questo periodo in cui le bollette di gas e luce sono diventate un vero e proprio salasso e si è più sensibili verso chi offre soluzioni. Tante le denunce di raggi ripresentate alle forze dell'ordine, ma anche ai comuni. Diverse negli ultimi tempi le segnalazioni pure all'amministrazione comunale di Campobasso di tentativi di truffa telefonica già denunciati a polizie e carabinieri, destinatari soprattutto gli anziani, di cui l'invito a prestare la massima attenzione quando si ricevono telefonate di persone che si spacciano per operatori di servizi di gas e luce. È meglio chiudere subito la conversazione e denunciare alle autorità competenti. Nessuna compagnia di elettricità o energia chiederà mai dati di carte di credito o conti correnti telefonicamente. Occhio anche alle email di phishing in cui vengono proposti presunti rimborsi per errori in bolletta da ottenere solo comunicando IBAN e numero di carta di credito. Ci sono poi i finti agenti che suonano a casa per chiedere visione di bollette o per controllare il contatore e verificare sempre con la compagnia. Attenzione poi alle offerte che appaiono più convenienti e agli sms sul telefonino. Dati personali e codici non vanno mai rivelati. Intanto anche l'Inps comunica che circolano in rete false email inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile all'istituto e con la firma del direttore in cui si informa il contribuente che una sua domanda non è stata accolta perché manca la documentazione. Lo si invita a scaricare un documento che contiene in realtà un virus capace anche di rubare dati personali. Queste mail non sono inviate da Inps che non utilizza questo tipo di comunicazione e invita dunque a non aprire mai tali allegati.